Il Salone Internazionale del Libro di Torino ritorna con il suo pubblico ed è più vivo che mai. Dalle 14 alle 18 ottobre, negli spazi dell'Ingotto Fiere e dell'Oval, ma anche nei piazzali esterni, ci saranno gli editori e tanti big della letteratura in arrivo da ogni parte del mondo. Il programma sarà annunciato a settembre, ma il direttore editoriale Nicola Laggioia annuncia i primi nomi. La scrittrice francese Valérie Perra, nell'equilibrio Cambiare l'acqua e i fiori, è stato il più venduto in Italia nelle 2020. Andrea Siman, dalla Spagna Javier Cercas e Alicia Jiménez Bartlett, l'argentino Alan Pauls, Stefania Auci e Domenico Starnone. Arriverà al Salone David Ecomen, autore di Spillover. Tra i grandi ospiti ci saranno la scrittrice, giornalista e commentatrice politica turca Ece Temelkuran e Carlo Verdone. È previsto un incontro in collegamento con Jeff Kinney. Il libro non soltanto ha resistito, ma è addirittura più forte di prima. All'inizio pensavamo che sarebbe stato un salone più italiano, con autori nazionali, e invece avrà un palinsesto di grandi autori e progetti di respiro internazionale. Sarà un salone più internazionale che mai, sottolinea la gioia.